Continua la vicenda giudiziaria che dal 2014 vede una parte dei cittadini di Sala a Bagnano contro la realizzazione di un edificio di prestigio oggi noto come Casa Convista. I finanzieri della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Salerno, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, hanno sottoposto a sequestro preventivo l'intero immobile. È l'ultimo atto in ordine di tempo di una tormentata vicenda giudiziaria che di fatto non ha fermato la costruzione del fabbricato. Ma i sopralluoghi effettuati dai militari nel corso dei mesi, con l'ausilio anche di consulenti nominati dall'autorità giudiziaria, oggi hanno consentito di mettere in luce una serie di elementi attestanti l'esecuzione di opere edilizie prive di titoli autorizzativi o in contrasto con le normative e regolamenti vigenti. Il GIP ha così accolto il carattere di urgenza atteso a prevenire la realizzazione di ulteriori opere abusive sequestrando l'edificio. Nell'ambito dell'attività investigativa sono indagate nove persone, tra esse spiccano i nomi del legale rappresentante amministratore della società, ma anche quello di un funzionario delegato del servizio trasformazioni urbanistiche dell'ufficio PUC del comune di Salerno, che ha curato il rilascio del permesso a costruire in contrasto con il RUEC, il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale e il Regolamento Edilizio Tipo della Regione Campania.